Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, scuola di Bali Caraibici e non solo. Proseguiamo il nostro studio della salsa portoricana con una nuova figura che si chiama Huelta Mambo se non sbaglio. Passo la parola alla signora qui, a questa qui. Grazie per questa qui. Ti spieghi un po', tanto parlo solo lei. Io eseguo solo. Va bene, detto questo andiamo pure avanti. Allora, prima di eseguire questa figura in coppia devo spiegare un attimino i passi per la donna, perché in questo caso la donna dovrà eseguire una Huelta progressiva, cioè facendo un cambio di posto, mentre gira alla sua sinistra. Cosa succede? Basico, sempre nei primi tre passi. Uno, due, tre. Al tempo cinque è un passo in avanti, però vedete già leggermente girato verso la mia sinistra. Sei, continuo a girare. tre e sette ho finito la mia Huelta verso la mia sinistra. Al tempo uno, frontale. Uno, due, tre. E andrò sicuramente a eseguire un cross. Check. Va bene? Adesso la vediamo però in coppia. Quello che dovrà fare anche l'uomo per guidarmi questa Huelta Mambo. Per l'uomo sono sostanzialmente passi di cross con un comando particolare al tempo cinque. Ok, che adesso logicamente parlerò io perché lui il suo microfono lo rimette lì al suo posto. Ok, dalla posizione chiusa andiamo a eseguire questa Huelta Mambo. Quindi i primi tre passi del cross. uno, due, tre. Da qui al tempo cinque l'uomo darà uno swing. Cinque, sei e sette. Al sette mi raccomando uomini la vostra mano sulla spalla destra della donna. Le fate capire che deve continuare il suo giro. Quindi uno, due, tre, cinque, sei e sette. E abbiamo eseguito la nostra Huelta Mambo. Adesso la faremo senza conteggio per vedere come nell'evoluzione dei passi questa figura si svolgerà via. Uno, due, tre, cinque, sei e sette. Uno, due, tre, cinque, sei e sette. La ripetiamo da quest'altro lato. Avete visto sempre il braccio sinistro al tempo uno che si alza e questo perché permette poi all'uomo di prendermi sotto, appoggiare la sua mano destra sulla mia scapola sinistra e portarmi in un cross body lead dall'altra parte, un cross check a seconda di quello che poi vogliamo fare. Andiamo con la figura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. E anche questa è fatta e ci vediamo la prossima puntata. Ciao ciao!